Mattinata di emozioni, riflessioni e motivazioni per il comparto degli industriali pesaresi. Il teatro sperimentale ha ospitato l'Assemblea di Confindustria di Pesaro Orbino, probabilmente una delle più importanti nella storia dell'associazione, perché è stata quella di fine mandato per Mauro Papalini, che si congeda dalla Presidenza dopo quattro anni, di cui la metà da traghettatore di una categoria nella tormenta della pandemia, e perché ha registrato il passaggio di consegne ad Alessandra Baronciani dell'azienda Isopac, prima presidente donna in 75 anni dell'associazione. Aggiungiamoci pure che a presenziare all'Assemblea c'è stato il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, tra i più accalorati, ad applaudire ed abbracciare un emozionato Mauro Papalini. Un grande ringraziamento allungatosi a tutte le autorità del territorio, dal presidente della regione Acquaroli al sindaco Ricci, dal presidente della provincia Paolini a quello della Camera di Commercio Sabatini, fino al rettore dell'Università di Urbino Calcagnini, si è respirata quella coesione tra imprese e territorio che è stato il titolo messo in calce alla stessa Assemblea. Dopo quattro anni di attività e aver sentito tante persone al fianco e condividere gli stessi obiettivi, non potevo non ringraziare. Pertanto sono ringraziamenti con grande emozione, ma con grande affetto e sono sicurissimo che chi ha ricevuto il testimone questa mattina per proseguire un percorso iniziato lo farà molto molto bene e avrò modo di ringraziare la nuova presidente per ogni attività che svolgerà. Io con Mauro ho lavorato al fianco per quattro anni in qualità di vicepresidente, per cui mi lascia anche un po' di malinconia, però so che continuerà comunque a collaborare perché il nuovo statuto ci dà questa possibilità e mi lascia tante emozioni e una grande carica e questo incarico come donna, come prima donna, mi consentirà di stare vicino a tutti gli associati, ovviamente a tutti gli imprenditori, ma un occhialino all'imprenditoria femminile, un po' di sensibilità forse in più al lavoro, all'occupazione dei giovani e delle donne. L'Assemblea è stata anche l'occasione per premiare gli imprenditori storici della provincia, dai 70 anni di costruzioni brandi passando per l'impegno decennale di Scavolini, Midor, Ernesto Meda, Alluflon, Lam, Fox, Diba, Morfeus e tante altre aziende intrattenutesi nell'ascoltare la relazione finale del presidente di Confindustria, Bonomi, che dal podio dello sperimentale ha rinnovato gli sforzi di una categoria che combatte con il cuneo fiscale, la riduzione del costo del lavoro e le divergenze con una classe politica e sindacale che non sta parlando il linguaggio dell'imprenditoria. Speriamo, soprattutto in questo momento così difficile o vivo da imprenditore, dove le materie prime, come ha detto lui, tant'è trovarle ma i prezzi non sono quantificabili, le energie sappiamo dove stanno andando, l'unico aiuto che possiamo avere per mantenere la nostra competitività è quella di ridurre il costo del lavoro di cuneo fiscale e di dare comunque anche più disponibilità in mano agli italiani, ai lavoratori, questo sarebbe fondamentale perché è un momento molto difficile, sono ormai due anni che siamo sotto pandemia e è ora di fare qualcosa.